Sportiva Assieme è una finestra sulle attività ludico-motorie del territorio. Viene fatta in sinergia tra le due amministrazioni comunali di Ostiglia e Pieve di Coriano e presenta un pochettino tutte quelle che sono le scelte educative o sportive del territorio. Un territorio piuttosto vasto che va da Seme, de Mantova e quant'altro. Sono una risposta a delle esigenze. Lo sport non è più semplicemente un qualcosa di ludico ma è diventata una necessità, una necessità fisiologica perché risponde al bisogno di movimento che hanno i nostri ragazzi. I nostri ragazzi non hanno più la possibilità di muoversi, di giocare come facevamo noi una volta e hanno bisogno di un luogo strutturato, un luogo protetto dove possano sperimentare il loro corpo. Nello stesso tempo hanno modo di sperimentare delle regole, hanno modo di sperimentare un modo di socializzare. Quindi lo sport è diventato quel contenitore dove i nostri ragazzi possono vivere in modo educativamente corretto il loro corpo. C'è il calcio, l'equitazione, il volley, l'MMA, il karate, il tiro con l'arco, il jiu-jitsu, il tennis, il nordic walking, poi abbiamo il savate, il basket, pattinaggio artistico su rotelle, latino-americani e danze orientali. E sì, è rivolto ai bambini perché possono divertirsi, ma è soprattutto rivolto ai genitori perché possono capire quali possono essere le scelte migliori per i loro figli. Ci tengo a precisare che un futuro sportivo non è da ricercarsi nella volontà di diventare un agonista, un campione o qualcosa d'altro. È semplicemente imparare a stare bene con il proprio corpo per poterlo tenere attivo per il più lungo tempo possibile. Sportiva Pieve è già alla sua sesta edizione, Ostiglia è alla sua seconda, ma le due sinergie stanno funzionando molto bene. Hanno creato situazioni come queste, hanno creato convegni su sport e disabilità e disagio giovanile. Stiamo lavorando proprio perché ai genitori del nostro territorio sia offerta una possibilità per far sì che i loro figli crescono in modo armonico e sicuro, strutturato e sicuro. Già da qualche anno ospitiamo queste attività dove vogliamo far vedere ai giovani, ma anche a tutti i cittadini, che c'è la possibilità per tutti di praticare sport, di fare movimento, di essere in forma fisicamente e anche psicologicamente, perché questo fa stare meglio e può dare una qualità di vita migliore. Pieve ospita diverse associazioni che ognuno propone quella che è la propria attività, quindi c'è la possibilità di provare tutto quello che si vuole, dall'equitazione alla riflessologia a vari tipi di sport. Ci crediamo, crediamo che questo sia il modo per i nostri giovani di uscire da un circuito sicuramente poco sano, che è quello dell'essere troppo davanti alle tv, ai videogiochi. Il movimento, lo sport, l'attività sociale è secondo noi da proporre per un futuro migliore per i nostri ragazzi. E Pieve è in prima linea su questo. Ho voluto essere presente per un saluto, ma soprattutto per lanciare la seconda parte di questa iniziativa, quindi domenica prossima il 13 di settembre. A differenza di oggi, a Dostiglia sarà per le vie del paese, come è avvenuto l'anno scorso, e quest'anno allarghiamo anche con due vie in più, via Veneto in particolare e via Bertioli, in modo da creare l'anello caratteristico, di solito per la Notte Bianca o per la Fiera, delle vie di Ostiglia, proprio perché ci saranno più associazioni rispetto all'anno scorso e quindi con una maggior voglia di mettere a disposizione le loro attrezzature, i loro istruttori, per la promozione e l'esercitazione pratica delle varie iniziative. Speriamo nel bel tempo e speriamo in un'affluenza di tanti bambini e di genitori, e di tutti i cittadini ostigliesi, ma non solo.